Cosa ci studiamo oggi? Timing per Bassisti 2. Andiamo un po' a vedere, potremmo prendere il Time 4, Tower of Power. Allora, ci impariamo i 5 groove in stile Tower of Power, le 5 variazioni. Proviamo con il primo. Ok, seconda variazione. Per avere proprio il suono tipico suo dovremmo prendere tutto con l'indice dove si può e stoppare con il medio e la murare. Invece di per avere questo bel suono stoppato. Proviamo con il terzo. Meno. Quarto. Attenzione, Ghost Note. Wow. Questa è ancora più incasinata. Bellissimo. Anche questo dovremmo cambiare il sol. Infatti lo dà il tastino 10 per poi andare sul son basso. Chiaramente qua non riesco a farlo tutto con l'uno. Però fa, 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 si, 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 si. Molto bene. Proviamo ad andare con... Ogni ringa viene suonata quattro volte con accompagnamento e quattro volte con solo traccia di synth, senza basso. Ok, proviamo, vediamo cosa succede. Suoniamo con me se vuoi. Ciao. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Vogliamo un po' di rugire.